Ciao, sono Stefania Ruffo, benvenuti a Vicenza. Vicenza è una città frazionante nel nord-est dell'Italia, famosa per la sua storia e la cultura. Qui a Vicenza ci sono molte città, musei e palazzi di renaissance. Vicenza è anche benvenuta come la città di Palladio. Nel secolo XVI, questo ingegnante arcteo ha lasciato molte esempi di arte e il suo stile ha inspirato arcteo all'interno del mondo. Vogliamo vedere una villa inspirata da Palladio? Il sito della Villa Cordellino Lombardi semplicemente prende il mio cuore. Le famiglie di Veneto riuscirono questi giudici per ammettere la meravigliosa atmosfera del paese. Come si è trasportato durante il tempo, si può quasi sentire come uno degli affluenti, che questa famiglia è intrattenuta con concerti, danze, suomptuosmi e vini locali, fuori dal centro di città. Parlando di vini locali, oggi ho scelto un durello fatto da Cogli Vicentini Winery. La qualità del vino spartellino è ottenuta per il metodo del Charmant, creato da Durella, una varietà antica e indigenza, che cresce in l'area Lissina, in viniacchi principalmente in palle. Il pelle stroviello di questo vino è un colore molto delicato e il perlaccio di bubbi brillante è buono e persistente. Il bouquet è molto ricco, con minerali e salinità, come i minuti ricordi del mare che una volta coperti la terra. È fresco, piacere e assolutamente armonico. Che possiamo fare? Non c'è dubbio, questo vino è perfetto con pesce, specialmente pesce pesce, come perlaccio o perlaccio. Ma oggi ho scelto un pesce con polenta, un piatto tipico di Vicenza. La combinazione è assolutamente divina, questo vino e il pesce con pesce sono entrambi da tutti i nostri forti fervi. Spendendo le strade di questa città esclusiva, potete anche comprare un altro posto vicenda vicenda. In the hills of Montecchio Maggiore, looking at those castles, where the time seems to be stopped, in Romeo and Juliet's loving days, you see just how passion and love can make everything so enchanting. Enjoy your wine!